Volevo prendere un acquario C'è un sacco di gente per iniziare Ho trovato veramente un livello di preparazione vocale dei ragazzi molto particolare Bisognerebbe che questi ragazzi avessero la possibilità di essere messi tra le mani di professionisti Perché sono molto bravi però a volte mancano un po' nei testi, mancano un po' nella musica eccetera eccetera Noi che dalla giuria in questo caso siamo costretti a dare un'opinione, un giudizio Ci troviamo in difficoltà perché bisognerebbe dare un giudizio un po' separato Cioè la loro esibizione ma anche il prodotto che loro portano Ho trovato i ragazzi molto preparati e spero che vinca il migliore Se dovessi dare un consiglio ai ragazzi direi di smettere subito Sono molto sincera Al contrario di tanti altri festival mi sembra molto più familiare, molto più vero Molti di questi festival che sono organizzati in Italia forse hanno da imparare da questa organizzazione Perché sono piacevolmente meravigliata di quanto professionismo, serietà e passione ho trovato qua Ho sentito tanto parlare di questo Solarolo Song Festival Quindi sono curiosa stasera di sentire appunto i finalisti, i venti finalisti Sarà sicuramente un festival di cui si sentirà parlare nel tempo Che devo dire? Di che parlo? Chi sono? Che faccio? Secondo me questo è proprio un bel festival, non l'ho ancora visto, lo vedrò stasera dal vivo Che è meglio dal morto, però secondo me è proprio bello, bello, bello Speriamo che negli anni possa crescere, no? E perché no? Diventare meglio del festival di Sanremo Ha, 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 ha